Cosa è successo? Intanto una bomba d'acqua che è crollata un pezzo di, diciamo, di strada, no? Che c'erano dei friti enormi, no? Come vedi tutta pietra morta, che qui stava tutta nei torrenti. E chiaramente qui c'erano due metri di terra, di fango, di pietre, di cose. L'isola chiaramente è colpita. Insomma, questo è un disastro vero, serio. Io non me lo ricordo mai. Sono qui da tantissimi anni, più di quarant'anni. Non ciò che dire, non me lo ricordo. Grazie a tutti.